ciao a tutti siamo l'angolo del gaming sul cursale dell'angolo di windows e oggi vi presento Jimmy lo scienziato radicale anzi lasciamo che lui si presenti tutto radicale adoro questa roba invece solo per il mio aspetto il mio modo di parlare la gente mi giudica un idiota ma stavolta ho proprio sognato di curare tutte le malattie usando i bloccanti per sopprimere cataleticamente la ridondanza della rna quale idiota farebbe un sogno simile tupolare esperimento x che non è arma x degli x man è quella dove wolverine subisce uno dei suoi tanti cambiamenti prova la mia magica multibiglia crea una seconda palla quando colpisci il tondino verde fantastico ok inizio da sei rifiutato di entrare da tutte le parti questa volta no è entrato da qualche parte mi fa una piccola strisciata ma non decisiva questa volta no è una piccola strisciata ma non è una piccola strisciata ma non è ma dai e adesso è un momento di qua ok adesso c'è il problema riguardo a prendere questa infatti non penso un uomo facciamo un piccolo sacrificio ok non è riuscito assolutamente non è riuscito niente questo primo livello ci è andato male consiglio elimina i tondini blu per raggiungere quegli arancioni stavo già facendolo allora esperimento x e non è riuscito lo ritentiamo io anche questa cosa eh? Niente, niente. Sì, i verdi non piacciono, no? Comunque c'è quel verde lì a sinistra è cosa domani, no? ok questa volta ho fatto un po' così di meglio ok questo è stato un tiro speciale e non ho dovuto usare entrambi i mattorgini verti peccato che non può andare su 100.000 ho andato diretto su 50.000 si deve neanche rimbalzare questa volta però ho fatto un po' più passiamo al livello successivo l'elettricità è il massimo è come una magia che ti drizza i peri della coda prima di scoprire cosa succede qui un dritto al centro la vita un dritto a parlare ok oh quel arancione non vuole farsi prendere ma adesso può ho pubblicato oh creare un dritto a parlare ok 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 niente allora riproviamo questo livello c'è un consiglio per me? no? niente? ok ok questo tiro mi è piaciuto tanto e anche questo mi è piaciuto tanto questo è stato speciale quanti punti questo solo tiro? 120.000 ok ok vorrei avere un'epidia libera qui, attuco e ne manca uno giusto? E vai! Wow! Questa è stata una partita piena di punti conteggio superlativo che non è una partita piena di punti conteggio.